E ora la parola allo chef, ricette, trucchi e segreti da Fabrizio Tesse, chef della locanda di Orta, sul lago d'Orta, in provincia di Novara. Ha conquistato da poco la sua prima stella Michelin, a soli due anni dall'apertura del ristorante, che si trova accanto alla piazza Salotto di Orta San Giulio. Uno dei suoi maestri è stato lo chef Antonino Cannamacciolo, da cui ha imparato molti segreti sulle diverse preparazioni del pesce. Oggi cucinerà un piatto creativo utilizzando la trota salbonata.